La vocazione turistica del comune di Santa Cesarea Terme è strettamente legata alla presenza delle importanti acque termali, appartenenti al gruppo delle Salso Bromo Iodi che sulfure fluorate. Si tratta di un importante patrimonio idrico naturale dalle qualità mediche riconosciute già nei secoli passati, utili specialmente alla cura di patologie reumatiche otorinolaringoiatriche e ginecologiche. Gli stabilimenti termali pertinenti a Terme di Santa Cesarea S.P.A., Società per azioni a totale capitale pubblico, sono Stabilimento Palazzo, Stabilimento Gattulla e Stabilimento Sulfurea, posizionati in concomitanza alle fonti sorgive termali. Grazie alla presenza dell'idrogeno solforato, le acque di Santa Cesarea sono benefiche per alleviare i disturbi delle patologie a carico dell'apparato respiratorio e di quello osteoarticolare. Di recente le acque termali sono impiegate dal Centro Benessere in diversi percorsi di bellezza e relax. Sono numerosi ogni anno gli utenti che fruiscono dei vantaggiosi trattamenti, efficaci per la cura del corpo e il benessere psicofisico. Grazie a tutti.